Modica saprà reagire, si rialzerà e tornerà più forte di prima. E' il convento del sindaco Gnati Abate che ha paragonato il maltempo di ieri con i relativi danni all'alluvione del 1902. Domani è anche prevista la visita del governatore Crocetta. Modica e Cicli stanno predisponendo gli atti per richiedere lo stato di calamità. I residenti di Contrado Maut a Modica sono barricati in casa per via delle condizioni delle strade. A Catania danni in genti a Librino e Zialisa. Approvato dal Consiglio Comunale di Ragusa l'ordine del giorno per sensibilizzare la città sul rischio sismico. L'atto presentato dai consiglieri di Lab 2.0 prendendo spunto dalle attività del lancio è stato portato all'unanimità. Non sarà presentata alcuna mozione di sfiducia contro il sindaco Federico Piccitto. Bocciato infatti l'ordine del giorno proposto da Dasta e Chiavola che avrebbe dovuto avviare il percorso. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione. Modica saprà rialzarsi, reagire e tornerà più forte di prima. E' questo il commento del sindaco di Modica Ignazio Abate che dal tardo pomeriggio di ieri ha seguito in prima persona l'evolversi della situazione passando tutta la notte insieme con la protezione civile, i vigili del fuoco, la polizia locale che hanno perlustrato, per perlustrare tutto il territorio facendo registrare numerosi interventi nelle zone più colpite. Per la pioggia torrenziale, Confagricoltura Ragusa ha chiesto anche la conta dei danni per la calamità naturale, appunto per la dichiarazione proprio in tempi rapidi dello stato di calamità. Intanto proprio per le condizioni di Modica all'indomani del maltempo, domani è prevista anche la visita in città del presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, ma facciamo il punto della situazione in questo servizio. Alluvione 23 gennaio è il titolo del comunicato stampa diramato dal sindaco di Modica Ignazio Abate oggi pomeriggio. La storia si ripete, dal 1902 è l'evento calamitoso più grave nella storia di Modica, ha ricordato il sindaco. Devastazione ovunque, danni per milioni di euro, famiglie sfollate, interi quartieri senza luce. Uno scenario impensabile che si è concretizzato in poche ore. Modica saprà reagire, si rialzerà e tornerà più forte di prima, ha commentato. Le situazioni più critiche sono state quelle registrate in via Fontana e in via Tirella, in corrispondenza con gli alvei dei torrenti. Decine di auto accortocciate l'una sopra l'altra, scantinate allagati, e la via Tirella spaccata in due per il cedimento del manto stradale. La Giunta ha deliberato la richiesta di calamità naturale, inviandola a Palermo. Domani dovrebbe arrivare il Presidente della Regione, Dottorio Crocetta, insieme con il responsabile regionale della protezione civile, Carlo Giorfoti, per constatare l'entità dei danni causati dall'alluvione. Il Governatore ha dato la sua disponibilità, ha fatto sapere Abate, ma non è ancora stata fissata l'ora. Il Comune di Modica ha predisposto il modulo da stampare dal sito istituzionale dell'ente e da compilare e consegnare all'Ufficio Comunale della Protezione Civile al Palazzo Azasi, dove allegare foto e descrizione dei danni subiti per ottenere il rimborso da parte della Regione. Da domani le scuole saranno riaperte. Solo la scuola dell'infanzia di Treppiedi Nord, che a causa di infiltrazione alla caldaia è rimasta senza riscaldamenti, resterà chiusa fino al 25 gennaio, con riapertura giovedì 26 gennaio. Rimarranno chiuse le palestre di Piano del Gesù e dei Amici Samo di Calta, che necessitano di interventi di pulizia. Gli istituti invece rimarranno regolarmente aperti. Chiusi il centro disabili per tre giorni e il centro anziani per due. E a chiedere lo stato di calamità naturale e anche Confagricoltura Ragusa, il Presidente Provinciale Antonino Pirrei, il Direttore Giovanni Sfucces, hanno rivolto un appello alle istituzioni regionali e nazionali. Fiumi esondati, campi alagati, ma anche muri crollati, aziende praticamente sott'acqua. Non è facile capire quali siano le perdite economiche, ma sicuramente le zone più danneggiate, ovvero il Modicano, lo Scilitano e l'Ispiccese, non possono attendere tempi lunghi. Occorre ripartire fin da subito, cercando di ridurre i problemi e contenere le perdite anche rispetto a quanto è stato irrimediabilmente compromesso. La Regione si attivi presto e con meticolosità, ha scritto nella nota Confagricoltura, in modo da consentire anche i passaggi successivi presso il Governo nazionale. Risulta un grave stato di criticità, la viabilità che conduce in contrada Genovese, in contrada San Marco, Catteto a Scicli, che rimangono interdette alla viabilità. Sono state effettuate le operazioni di pulizia delle caditoie di innumerevoli strade, tra cui le principali vie di attraversamento della città, le vie San Giuseppe, Santa Maria la Nova, San Bartolomeo, Colombo, Tagliamento e Arterie Limitrofe. Si è potuto assicurare la completa agibilità anche invece delle aule scolastiche, per cui è garantita la ripresa delle attività didattiche per la giornata di domani. L'amministrazione sta provvedendo anche a predisporre tutti gli atti ed empimenti necessari, con particolare riferimento alla quantificazione dei danni per la richiesta di dichiarazione dello Stato di calamità alle autorità competenti. Modica è in assoluto la città più colpita dal maltempo, seguono Sciclistica, Pozzallo e Ragusa. Allora vediamo in questo servizio come si è svegliata la città questa mattina. Garage e scantinati ridotte a piscine di fango paradossalmente non fanno impressione in confronto a come le strade si sono presentate agli occhi dei modicani questa mattina. È Modica infatti la città più colpita dal maltempo ieri, un dato che viene confermato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa. La pioggia ieri ha trasformato le strade in torrente, inutile sottolineare che la maggior parte di questi si sono riversati nella parte bassa della città, dove ad attendere i corsi d'acqua c'erano gli alvei che, con l'arrivo di litri e litri di acqua, sono tornati ad essere torrenti corposi. Al suo passaggio l'acqua ha portato via con sé ogni cosa si fosse presentata d'innanzi. Un esempio tra tutti che sicuramente diventerà il simbolo di quanto accaduto è il quartiere Vignazza, dove i residenti questa mattina hanno dovuto fare i conti con automobili scaraventate su cancelli, muri e terreni. I danni sono ancora in corso di quantificazione, in quanto ancora continuano le operazioni di recupero delle autovetture e di pulizia di quelle che sino a pochi giorni fa erano cortili e strade, ed oggi invece sono solo un ammasso di fango. La pavimentazione della via Trani oramai non esiste più. Come vedete dalle immagini, anche un'autovettura è rimasta incastrata in un'apertura che si è fatta spazio dalla strada. Questa, come altre, hanno costretto la chiusura delle arterie e di alcune viuzze limitrofe. In via Tirella l'acqua ha sfondato l'ingresso di un'abitazione tirando con sé anche i muri. Molti danni alle officine e agli esercizi commerciali in genere che hanno trovato completamente allagati i loro locali perché posti a pian terreno o seminterrato. Tuttora scorre acqua incontrata a Fiumara. Un torrente di acqua e fango infatti si dirige dalla parte alta della città di Modica a Scicli dove l'alveo del fiume ha riportato anche danni, tuttora non riparabili, in quanto è ancora in corso il deflusso idrico. Acqua che dalle rocce scende a valle distruggendo in alcuni casi colture e serre ridotte a palude. Molti i privati cittadini che hanno in queste ore fatto fronte all'emergenza con mezzi privati. Ma non solo la parte bassa della città della Contea ha riportato danni. Quelle che vedete sono le fotografie scattate dall'Istituto Regina Margherita di Modica in via Circomballazione Ortisiana nel cuore del polo commerciale. Le immagini sono allegate anche ad una descrizione dei danni che parla di muri di recinzione crollati, tubi di gas rotti e salone allegato. Armati di coraggio e volontà decine e decine di modicani per tutta la giornata di oggi hanno spalato fango e ripulito, come potevano, strade, marciapiedi e pavimenti di ciò che ha lasciato l'ondata di maltempo di ieri. E adesso andiamo in Contrada Giurgiuzzo, vicino alla Contrada Mauta Modica dove la situazione è veramente allarmante. 50 famiglie non possono uscire di casa perché la strada non esiste più. Sentiamo ancora Marco Scavino. Le immagini girate questa mattina in giro per la città di Modica che secondo i vigili del fuoco, lo ricordiamo, risulta essere la città più colpita dalla bomba d'acqua, parlano di gravi danni e di rischi scampati quasi miracolosamente. In Contrada Mauto e nella vicina San Giurgiuzzo, alcune strade sono state investite da un'ondata d'acqua che con sé ha portato via muri a secco e rocce. Ecco come si presenta una delle strade della Contrada Rurale Modicana. Questa mattina i privati cittadini hanno utilizzato i loro mezzi per riaprire quella che oggi ha tutt'altro che la forma di una strada. 50 famiglie bloccate dentro casa non possono muoversi in quanto la strada si presenta così. Pietre, fango e ancora acqua che scorre vicino. È da qui che parte l'appello di un gruppo di residenti che chiedono interventi immediati ma anche risolutivi in modo concreto. Chiediamo al sindaco e tutta l'amministrazione comunale di prendere in considerazione questa strada in maniera seria e definitiva, non di ogni volta di tentennare fare degli interventi palliativi che non servono a nulla. Come vedete noi siamo in 50 persone che non possiamo usufruire della strada in nessun modo quindi con l'interruzione del servizio scolastico non possiamo andare al lavoro, non possiamo fare niente di niente. Già dieci anni fa è successo un disastro simile, ci sono stati interventi della protezione civile solo per mettere in salvo le persone ma non si è fatto nulla, 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 nulla per sistemare la strada. Persino sono andato a finire davanti a un tribunale, davanti a un giudice e nonostante questo, compresa la protezione civile, compresa il genio civile, compresa il sindaco tutti sono stati chiamati all'appello ma nessuno alla fine di tutto l'iter si è messo a sistemare qualcosa. Hanno fatto semplicemente degli interventi palliativi semplicemente per costruire un alibi ma in realtà non hanno fatto niente di niente. E sono stati diversi gli utenti di Facebook che hanno pubblicato foto e video sul nostro social network per raccontare quello che stava succedendo sul territorio ragusano ma soprattutto a Modio. Allora facciamo il punto sul maltempo di ieri sera e nel corso della notte in questo servizio. Tant'acqua non si era mai vista sulle strade negli ultimi anni nel territorio ragusano. Ha piovuto ininterrottamente fino a provocare seri danni alle arterie, alle auto e alle abitazioni. Telefonate continue al comando provinciale dei Vigi del Fuoco che dalle prime ore della serata di ieri ha impegnato tutte le squadre operative per prestare soccorso e assistenza a cittadini in difficoltà. Tanti gli interventi per allagamenti, albri di velti e ingombri stradali. Dalle 5.30 del mattino circa a causa delle forti piogge in via Fontana a Modica si è formato un corso d'acqua che attraversando strade e via ha travolto auto e allagato scantinati. Per soccorrere le persone in campo è scesa anche la Polizia di Stato di Modica con i fuori strada. In molti casi il livello dell'acqua ha raggiunto anche l'abitacolo, mettendo a repentaglio l'incolumità degli occupanti, tra cui numerosi bambini. Nel corso della serata gli utenti di Facebook hanno pubblicato foto e video in un diario che racconta scenari apocalittici. A Modica, Corso Umberto, era un fiume in piena. Si notano dalle immagini auto sollevate dalla violenza dell'acqua. Garage scardinati, alberi di velti piombati sui mezzi. Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, per tutta la notte è rimasto in giro con squadre e 11 mezzi di ditte private per liberare le arterie dall'enorme flusso di acqua e rimuovere massi e detriti. Il primo cittadino ha anche disposto alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l'impraticabilità di alcune vie di comunicazione. A causa di numerosi smottamenti è stata chiusa la provinciale Modica Scicli, fiume elato, strada fiumara, interessata dalle frane. Già la settimana scorsa avevano occupato la strada e i massi ceduti dal costone. I vigili del fuoco lo avevano anche segnalato sia alla provincia che al comune. E quest'ultimo si è visto costretto solo ieri sera a chiudere l'arteria che da Modica conduce a Scicli. Sono rimaste intardette al transito veicolare anche le vie Tirella, San Giuliano e alcune strade di Frigentini. È stato vietato l'uso dell'acqua potabile se non previa ebollizione della stessa distribuita da tutta la rete idrica comunale a Modica perché le falde acquifere sono interessate da infiltrazioni di acqua superficiali a seguito delle copiose piogge che hanno interessato il Trisoro Comunale e le operazioni di clorazione non sono sufficienti a garantire la regolare potabilizzazione delle acque immesse nella rete idrica. Stanotte è traccimato il canale circondariale del Consorzio di Bonifica. Si è formato un tappo di cane di circa 30 metri vicino al ponte di Contrada Cozzo-Munia-Ispica che ha aggravato la situazione da tempo già precaria. Allagate alcune abitazioni con residenti costretti a dormire in auto. A Scicli il sindaco Enzo Giannone e Gagli di Sera ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Anche a Scicli si sono viste scene esclusive. La pena del torrente Modica-Scicli e l'esondazione sotto il Ponticelle sul torrente Santa Maria-Lanova. A Ragusa si è allagato anche il Cineflex. Il sindaco Federico Piccetto ha attivato la protezione civile riscontrando maggiori criticità nelle vie Monelli, addolorate di sorgimento, le bretelle laterali di Viale delle Americhe, via Archimede, strada provinciale 13, Alfieri, zona industriale terza fase, lungo mare Andrea Doria e strada provinciale 25. Da oggi lo stato di allerta è stato abbassato da arancione preallarme a giallo. Attenzione! Nei prossimi giorni le temperature rimangono invariate sui 13 gradi con il 70% di precipitazioni, ma da giovedì si fermano a 10 con 16 gradi fino a sabato. Il forte maltempo che si è abbattuto sulla costiera catanese nelle ultime ore ha creato disagi e allagamenti in diverse zone della città e dei paesi limitrofi, come al villaggio Santa Maria Goretti, in tangenziale nonché a Librino e Zialisa. Le strade inoltre sono piene di buche e ciò che crea disagi agli automobilisti. Sentiamo Sara Donduso. E' in ginocchio la Sicilia a causa del maltempo che da ieri sta imperversando. Diversi danni che si sono registrati anche nella zona del Catanese. A Mister Bianco, Tombini, Divelti e Acqua Alta, così come Acqua Alta si è ritrovata nella zona industriale di Catania a causa dell'esondazione del torrente Forcile. I disagi sono continuati anche in via Dusmet e in via Cristoforo Colombo. Acqua Alta anche nel villaggio Santa Maria Goretti. Gli abitanti questa notte sono stati costretti a chiamare i vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente con le pompe drovere per abbassare il livello dell'acqua e permettere così agli abitanti di spostare le proprie auto. Disaggi anche nel quartiere di Zialisa e a Librino. Traffigo rallentato poi in tangenziale in direzione Siracusa e chiuso lo svincolo per l'aeroporto Fontana Rossa. Disagio alla circolazione anche in via Dusmet e in via Cristoforo Colombo a causa delle diverse grosse buche che si sono create sull'asfalto. Buche che si sono notate in diverse arterie della città, tant'è che gli automobilisti sono costretti a fare continui zigzag per evitare di rimanervi bloccati dentro. Sempre a causa di una frana è stata interrotta la circolazione lungo la statale 194 alla Ragusana, Travizzini e Monte Rossoalmo, dove sono intervenuti i tecnici dell'ANAS. Disaggi anche nel quartiere di Bicocca e in tangenziale per gli ingressi che riguardano il centro commerciale Porte di Catania. Tutti gli accessi infatti sono allagati e alcune auto, nonché un camion, sono rimasti bloccati all'interno dell'acqua alta. Incidente grave poi nella tangenziale in direzione Mister Bianco. Il traffico infatti è stato rallentato con conseguente riduzione di careggiata nel tratto compreso fra l'incrocio di Mister Bianco al chilometro 5,3 e l'incrocio per Paternone la strada statale 284 occidentale Tennea, in direzione proprio dell'incrocio. Sul luogo è intervenuto anche l'elisoccorso. E sulle condizioni meteo c'è anche una nota del comune di Catania per la giornata di oggi, fino alla mezzanotte. La protezione civile regionale ha emanato un bollettino di allerta meteo con codice di rischio idrogeologico arancione per domani, martedì 24 gennaio. Invece il codice è giallo, quindi di attenzione. Il comune di Catania precisa che le scuole saranno domani aperte regolarmente, e infatti soltanto in caso di codice rosso può essere disposta la sospensione dell'attività didattica. Si raccomanda comunque alla popolazione la necessaria prudenza, si legge appunto nella nota del comune di Catania. E proprio qualche giorno fa il consigliere comunale a Modica, Giovanni Scucces, aveva risolevato all'opinione pubblica la grave mancanza della comune in riferimento alla protezione civile. Scucces già a novembre aveva denunciato come la città non fosse dotata di un piano di protezione civile. E il sindaco aveva promesso che entro un mese avrebbe presentato l'atto. E come potete intuire ancora, nonostante sia stato superato il limite, d'attesa ancora nulla è stato presentato. Sentiamo tutti i dettagli. A novembre il consigliere Giovanni Scucces aveva presentato un'interrogazione per chiedere al sindaco di Modica, Ignazio Abate, come mai non fosse a disposizione del comune e che tempi occorressero per dotare la città di un piano di protezione civile, a norma e soprattutto moderno. Gennaio volge al termine ed ancora non è stato fornito alcun documento, nonostante Abate avesse detto, nella circostanza del consiglio comunale, che in massimo un mese avrebbe presentato il nuovo piano. La denuncia arriva nuovamente dal consigliere comunale Giovanni Scucces, primo firmatario di quella interrogazione, che metteva in luce l'imperdonabile ritardo del comune di Modica nell'avere un piano che potesse essere applicato in caso di emergenza, calamità o disastri naturali. Modica è indietro di tanti anni, possiede un piano, però, che non tiene conto delle attuali esigenze e strutture della città. Pur sottolineando come il contributo dei volontari della protezione civile sia impeccabile, Scucces ricorda come prevenire sia meglio che curare. E si chiede come mai ancora la città della Contea non abbia questo strumento, o meglio, chiede al sindaco di Modica, Ignazio Abate, come mai l'assessorato guidato dall'architetto Giorgio Belluardo non abbia prodotto e presentato in consiglio il nuovo piano, che come testimoniano i recenti fatti di cronaca risulta essere fondamentale. Purtroppo questi giorni ci hanno dimostrato, come dicevo, tutta la forza della natura, a cui bisogna sapere non purtroppo intervenire dopo, ma intervenire prima e contrastarla nel modo migliore. Un piano di protezione civile è proprio adatto a queste esigenze. Specifichiamo, il nostro piano è vecchio o non esiste? Allora, quello che esiste, diciamo che è così vetusto che è meglio forse non citarlo. Quello nuovo lo aspettiamo, lo aspettiamo dico con ansia, perché credo che metterà sicuramente una pietra miliare su quello che dovrà e potrà essere la migliore organizzazione. E risulta che l'assessorato competente stia lavorando a tal fine? Guardi, a me quello che risulta sono le dichiarazioni ufficiali, quelle che ho avuto come rassicurazione in Consiglio Comunale, che entro un mese dove essere pronto e parliamo del mese di novembre, quindi credo che nella migliore delle ipotesi a dicembre doveva essere già operativo per l'esamina e l'approvazione in Consiglio Comunale. Oggi, 22-23 gennaio, ancora stiamo aspettando. Approvato dal Consiglio Comunale di Ragusa all'ordine del giorno per sensibilizzare la città sul rischio sismico. L'atto presentato dai consiglieri di Lab 2.0, prendendo spunto dalle attività del Lanci, è stato votato all'unanimità. Ce ne parla Carmela Minardo. Sensibilizzare la città sul rischio sismico e organizzare la solidarietà verso le popolazioni colpite. Questi gli obiettivi indicati nell'ordine del giorno presentati da Lab 2.0 ad agosto scorso dopo il terremoto nell'Italia centrale ed approvato venerdì dal Consiglio Comunale di Ragusa. Il documento impegna il massimo consesso cittadino ad aderire alle iniziative promosse dal Lanci, in particolare istituire la giornata nazionale della protezione civile, chiedere alle regioni di assegnare alla prevenzione del rischio un budget annuale pari ad almeno l'1% del bilancio regionale, coinvolgere la comunità locale sulle problematiche dei rischi e sulle misure di prevenzione, fissare entro i prossimi 60 giorni una esercitazione per posti di comando in attuazione della pianificazione comunale di emergenza al fine di monitorare gli aspetti positivi e rilevare le eventuali criticità, adottare i principi della resilienza per la pronta risposta in emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi al fine di garantire la continuità amministrativa in emergenza secondo le indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, chiedere al Lanci di impegnarsi affinché sia rifinanziato, anche per le annualità successive al 2016, il Fondo per la Prevenzione del Rischio Sismico e affinché siano completate al più presto le procedure per le precedenti annualità. Con l'approvazione del documento, inoltre, i consiglieri si sono impegnati a devolvere il gettone di presenza della seduta consigliare a favore dei comuni colpiti dal sisma. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Ancora ben trovati in diretta a Palazzo dell'Aquila, a sede del Comune di Ragusa, non sarà presentata alcuna mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Federico Piccitto. Bocciato, infatti, l'ordine del giorno proposto da data e chiavola che avrebbe dovuto avviare il percorso. I soli voti favorevoli sono stati quelli dei due esponenti, assente il terzo consigliere del PD Massari, astenuti tutti i presenti delle altre opposizioni. Quando il Consiglio Comunale a fine anno bocciò le variazioni di bilancio, l'annuncio di una mozione di sfiducia fu presentato come una bomba ad orologeria sul cammino, irto e tormentato, dell'amministrazione comunale. Venerdì scorso il voto su un ordine del giorno che intendeva tracciare il percorso su cui collocare quell'ordigno è stato bocciato seccamente. A votarlo solo due consiglieri su tre del PD, Mario D'Asta e Mario Chiavola. Il terzo, Giorgio Massari, era assente. La maggioranza ha espresso voto contrario. Tutti gli altri consiglieri d'opposizione si sono astenuti. Ciò significa che il Movimento 5 Stelle, pur con soli 15 eletti su 30 rimasti a sostenere Piccitto, possono garantire al sindaco sonni tranquilli nei circa 16 mesi che rimangono alla conclusione del mandato. Chiavola ed Asta incassano la sconfitta, bruciante soprattutto nell'astenzione di tutta la restante opposizione, e provano a ripartire. C'è chi voleva mettere in gioco, affermano, i destini personali e le proprie poltrone, come il PD, e c'è chi, come il sindaco, non avendo più la maggioranza, non vuole dimettersi, mentre le altre opposizioni, non volendo la mozione di sfiducia, dimostrano di non voler giocare la partita delle partite, che ormai è un fatto non più rinviabile. Il PD, aggiungono, non può dare la sensazione di rimanere saldo alle proprie poltrone, per essere corresponsabile della disamministrazione grillina. Non può essere connivente di questo annichilimento politico. D'altro canto, chiedevamo che le liste che hanno preso nel 2013, tutte insieme, il 91% dei voti, chiedessero al sindaco di andare a casa. Così non è stato, e se la mozione non si presenterà, è perché le altre opposizioni hanno deciso di non cogliere questa opportunità. I due consiglieri, nonostante il voto, confidano nell'unità delle opposizioni a Palazzo dell'Aquila e considerano un'agonia dannosa per Ragusa un'amministrazione bocciata su tutti i fronti, come anche l'esito della Governance Paul del Sole 24 Ore ha confermato e del tutto scollata dalla città. Formazione e informazione con un Open Day all'Istituto Galilei Campailla di Modica. Vediamo. Open Day il fine settimana appena trascorso nei diversi indirizzi dell'Istituto di istruzione superiore Galilei Campailla di Modica. Una qualificata e condivisa sintesi culturale, una grande opportunità formativa per gli studenti dei paesi Iblei e non solo. Un istituto che continua ad occuparsi della formazione di cittadini e studenti che nei diversi indirizzi determina il futuro del nostro paese. Il Galilei Campailla è dislogato in diverse parti della città che coincidono con i diversi indirizzi dove si svolgono le attività didattiche. Il classico è in corso Umberto a Modica Bassa, lo scientifico presso il piazzale Baden-Powell, l'artistico è in via Sorda-Sampieri. Della valigata offerta formativa ne abbiamo parlato con il dirigente scolastico Sergio Caruba in occasione dell'Open Day. L'offerta formativa del nostro istituto, dei nostri tre licei, si differenzia in tre punto indirizzi che sono il liceo artistico, il liceo classico e il liceo scientifico. Ieri pomeriggio c'è stato l'Open Day al liceo scientifico, l'Open Day molto partecipata, come d'altronde quella di oggi qua al liceo classico e al liceo artistico. Sono tre indirizzi che sicuramente formano l'intelligenza di domani. I nostri ragazzi saranno i futuri professionisti della provincia e del mondo perché ormai siamo ovviamente evocati a una dimensione internazionale. E quindi sono parecchie le iniziative che vengono fatte in questo istituto non soltanto per approfondire le conoscenze e le competenze dei nostri ragazzi ma per formarli a 360 gradi proprio dal punto di vista sociale. Si parla di abbattere i muri, di creare ponti, così dice Papa Francesco, siamo d'accordo un po' tutti, anche nell'ambito della didattica, con la didattica inclusiva. Sicuramente il nostro istituto nelle sue tre articolazioni adopera intanto dei nuovi sistemi didattici che vengono, come dire, utilizzati insieme alla didattica tradizionale e la didattica inclusiva è particolarmente importante, la didattica personalizzata, per cui i miei docenti lavorano sui ragazzi quando è possibile, proprio in modo capillare, in modo tale da poter dar loro il massimo dal punto di vista delle conoscenze, delle competenze. E adesso rimaniamo sempre a Modica con un altro Open Day all'Istituto Principi Grimaldi. Open Day partecipato nella sede modicana di Viale delle Oleandri dell'Istituto Professionale per i Servizi dell'Eno Gastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Principi Grimaldi. Utile iniziativa che ha consentito agli alunni di terza media e alle loro famiglie di visitare i laboratori dei tre indirizzi, alberghiero, agrario e ottico. I docenti dei vari indirizzi hanno illustrato agli ospiti la versatile, corposa e articolata proposta formativa. Questa scuola è ben strutturata, ramificata su tutto il territorio. È organizzata in un bienio iniziale dove i ragazzi faranno tutte e tre le materie pratiche di laboratorio quale cucina, sala e ricevimento. Per quanto riguarda il triennio finale andranno a specializzarsi in una delle tre materie per conseguire poi un diploma. La sala e vendita praticamente è il reparto dove andiamo a preparare tutto ciò che riguarda il servizio in sala, tutto ciò che accade nel bar realmente facendo cocktail, preparazione di prodotti di caffetteria e il settore poi che a me piace di più e quindi lo trasmetto pure ai miei alunni è il servizio flambè. Quindi creare la cucina davanti al cliente, creare il flambè, creare scena e creare spettacolo nello stesso tempo. Questo settore apre un mentaglio di opzioni lavorative molto più ampie di quelle che noi possiamo pensare. Noi pensiamo solo al comparto alberghiero, non è vero perché i nostri alunni sono preparati anche per affrontare un lavoro agenziale, un lavoro di uffici turistici, di enti di promozione turistica come la Prologo, possono tranquillamente lavorare come hostess di terra sia nelle compagnie aeree ma anche in tutti i settori dove erano i fieristici, eventi. L'indirizzo agrario da oltre 60 anni diciamo così è una guida per il territorio, per l'agricoltura modicana e quest'anno per la prima volta abbiamo avuto approvati dopo due tentative abbiamo avuto approvati tre progetti Erasmus e credo che siamo l'unica scuola in Italia ad aver approvato i tre progetti. Quindi la nostra scuola si apre all'Europa. Tutto il distretto del sud-est che ha un bacino di circa 250.000 persone non esiste una scuola ottica oltre la nostra statale. Questo permette adesso permetterà alla nostra scuola di formare i nuovi artigiani ottici che andranno a lavorare nella realizzazione degli occhiali nel territorio creando una serie di giovani figure che potranno inserirsi benissimo nel mondo del lavoro sia come dipendenti presso gli attuali struttori ottiche già esistenti che come titolari di un negozio di ottica quando avranno completato il corso di studi che è di 5 anni. E adesso un servizio del nostro ufficio commerciale. Non ha tradito le aspettative la tredicesima edizione di Sposami il Salone del Matrimonio della Casa e Le Ciminiere di Catania organizzato a Barbara Mirabella di Expo. Il Salone inaugurato lo scorso 14 gennaio si è concluso ieri sera con una grande festa ma soprattutto con una fortissima partecipazione di coppie futuri sposi ma anche di tanti curiosi. Quest'anno il Salone si è fatto in tre oltre al piano terra al primo piano si è aggiunto un secondo piano con nuove delle grandissime stand ad esempio l'area dei giochi a premio e degli spettacoli show, sfilate proiezioni e degustazioni. E a proposito dei spettacoli l'animatore di queste bellissime sfilate e di tutti gli interventi è stato Emanuele Bettino da anni storico conduttore dei vari momenti proprio del Salone della Sposa. Con lui abbiamo tracciato un non bilancio di questi dieci giorni. L'edizione naturalmente è andata benissimo non poteva essere altrimenti perché lo staff di Expo con Barbara Mirabella in testa insomma sono veramente leader nel settore la più grande fiera della sposa e della casa del Sud Italia è andata bene io ho avuto la fortuna di presentarla per il sesto anno consecutivo e ho avuto anche la possibilità di conoscere nuove coppie che stanno per sposarsi però che si sono cimentate in passerella e che hanno vinto tantissimi premi messi a disposizione dai quasi 300 sponsor che ci sono insomma qui in fiera quindi mi ritengo prima di tutto fortunato perché mi sono divertito tantissimo e poi insomma sono sicuro che anche per la prossima edizione si farà sempre meglio e spero di essere chiamato ancora una volta a fare il mattatore degli eventi in passerella è davvero tutto per questa edizione grazie come sempre per averci seguiti ancora buona serata grazie a tutti